Allora, andiamo avanti con la competizione e a questo punto Davide io vorrei ringraziare prima di tutto l'amministrazione, perché l'amministrazione, questa amministrazione è sempre molto sensibile allo sport, a tutti gli sport, da quando si sono insediati hanno sempre sostenuto questa iniziativa, sappiamo che questa sera sono tra il pubblico, poi vi chiameremo sul parco e vi daremo il giusto spazio che meritano, ma vorrei anche ringraziare gli sponsor, gli sponsor per noi sono un valore aggiunto, perché ci danno la possibilità di realizzare questa competizione e di sostenere quello che è la tua attività, vorrei ringraziarvi uno per uno, però prima vuoi dire due parole, lasciamole dire. Scusate ma devo dirlo, gli sponsor, quegli sponsor che hanno finanziato questa manifestazione sono sempre molto sensibili e sono persone che quando io vado mi dicono ok Davide ci siamo, io credo in quella figura, io credo nel lavoro che fai, io ti do questo e se non ci fosse da loro tutto questo non riesce a farlo, per cui quello che stanno facendo devo dire un grande ringraziamento, io non vado a chiedere la carità, io voglio sentire da loro che quello che mi danno lo fanno non per me, per tutta la nostra comunità e poi per anche il suo futuro se c'è la possibilità, perché no, ma soprattutto per la nostra comunità. Grazie. 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 Grazie.